Salve e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft qui in TechKid 2. Ci siamo lasciati negli ultimi episodi con uno smistamento cesto un po' problematico perché tra una cosa e l'altra avevamo necessità di fare un po' di cambiamenti, un po' di aggiustamenti, insomma cose belle, complicate ma belle. Nell'episodio di oggi andremo a vedere invece cose un po' più semplici che ci aiuteranno un granché e forse, forse, andremo a fare anche qualche piccolo aggiornamento sempre a livello di smistamento cesto ma su quello è una roba che ci porteremo avanti per un po'. Vi ricordo intanto di mettere un bel like, un commentino che sostengono il canale, la serie, i video quindi mi raccomando, come dico sempre, io faccio il mio, voi fate il vostro e partiamo subito per quanto riguarda il nostro mondo di Minecraft. Ovviamente è notte, potrebbe mai non essere notte, ovviamente no, quindi facciamo prima di tutto una ninna. Ok, allora, iniziamo intanto, io ho riaperto qui, avevamo chiuso, questi effettivamente sono funzionanti in maniera complicata ma funzionanti. Iniziamo a sistemare un paio di cose, ve l'avevo chiesto nei commenti, io i commenti ancora non li ho letti ma ho fatto un po' di test in privato, i tubi di stone, adesso mi ricordo perché a cosa non si attaccano? Non si attaccano ai tubi di cobblestone, vi faccio vedere, guardate. Se io metto qua un tubo non va, ma se lo metto qui va, ok? Quindi tendenzialmente quello che possiamo fare in questo momento è più o meno questo lavoro qui. Ripristiniamo un attimo perché tanto il tutto funziona, ma io non sono sicuro che quello che esce da qui anche perché quale sarebbe il senso, deve passare da qua. Non so perché l'altro giorno durante la registrazione gli ho fatto fare questo giro quando è molto più intelligente farli andare di qua e qui mettere un tubo in diamante cosa che dovrei ancora avere da queste parti, esatto. Quindi se io con questo lo chiudo, ok? Metto qui un diamond pipe, metto qui un gold pipe, ne facciamo uno qui sul giro mi metto i miei stone pipe, tanto ci bastano, vanno bene anche questi qui. Aspettate, ecco qui. Allora, in teoria a questo punto io arrivo qua, non faccio bla 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 e me li porto di qua. Tendenzialmente, in realtà, qui io il diamond pipe non lo metto tanto per le cose che arrivano da qua ma le metto per le cose, cioè il diamond pipe non lo metto per le cose che arrivano da qui eventualmente ma da qui. Adesso potrebbe mai servirci? Non lo so, perché questo deve sicuramente portare indietro le cose ma questo deve solo portarle avanti. Potremmo quindi complicare un attimo la situazione ma farla così. Guardate, qua abbiamo tutta una serie di cose che però non andranno verso il rosso perché ci andranno da di qua e quindi ci liberiamo un po' di slot, perfetto, mi sembra già molto buono e verso il giallo niente perché il giallo non esiste più. Devo ovviamente prendermi tutte le cose preziose adesso e le sistemiamo perché sennò diventa un disastro. Allora, facciamo un po' di smistamenti vari. Da qui sicuramente le cose che devono andare e tornare verso il giallo sono i lingotti quindi i lingottini devono andare sul giallo. Bene, bene. Altre cose che cuociamo che devono andare di là? Non lo so, sto pensando. Non lo so, a occhio nulla. Quindi così bla 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 arrivano e vanno di qua, perfetto. Qui un collegamento, forse vale comunque la pena mettercelo per darci, oh questo no, per darci la possibilità di avere comunque uno slot giallo e avere quindi due flussi che vanno verso il nostro collegamento alle ceste. Sul rosso ci andranno sempre i lingottini. Adesso che abbiamo liberato delle cose, qui possiamo far sì che sul rosso ci vadano questo, ci vadano questo, che non si devono cuocere, ci vada questo, ci vada questa parte qua, tutti questi or qui, benissimo. E qua facciamo andare per esempio il peridot che poi diventerà sempre qui sul rosso perché lo smistiamo sul giallo e lo facciamo girare. Adesso facciamo una prova, eh, scusatemi. Prendo qui, metto il mio diamantino, il mio diamantino dovrebbe scendere e andare sul rosso e poi se ne va tranquillamente nelle sue ceste se l'ho inserito a qualche parte perché mica me lo ricordo. Perfetto, l'ho messo qui. Quindi molto, molto, molto piacevole, molto facile soprattutto. Per esempio, qui io non voglio che il diamante, cioè qua, perché mi devo mettere sul rosso questa roba qua? Potrebbe non servirmi, ce l'ho già qui, gli arriva da lì, non si incontreranno mai, quindi questo lo posso togliere. Sul rosso qui ho bisogno di tutta questa cosa qua, con tutti i lingottini, forse ce ne manca uno che è questo. Ho bisogno dello smeraldino che c'è e qui ho bisogno di tutti i lingottini più lo smeraldo, ok. La redstone non so se arriverà mai da qua o da lì, adesso vediamo, mi sa di no. Quindi la redstone da qui la possiamo togliere, in teoria. Anche l'electrine non ci serve perché arriva da qua, perfetto. E in teoria io adesso se posiziono, forse il coal ci manca, ci manca il coal, perfetto. Se io posiziono queste cose, tipo il coal l'abbiamo già messo, se io posiziono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccoci qua. In teoria, ok, questi cadono perché non ho messo i lingotti che vanno, ah perché i lingotti non possono mai essere qui, giustamente. Questi stanno girando, perché girano? Questi girano perché non sono stati inseriti. Questi girano perché qui non c'è spazio, perché non sanno dove entrare, giustamente. Allora, aspettate che li vado a prendere, così gli diamo una posizione. Domanda, se io li metto sul rosso qui, che succede, secondo voi? E tutto, dove sono finiti? Mi sa che li ha cacciati fuori da qualche parte, eccoli là. Aspettate un po', salve. Mi riprendo i miei craft, ok. Domanda, adesso se io ti metto questo qua blu qui e me lo fai scendere, bravo. Io l'ho messo qui che va su un colore che non esiste, e quindi non ci va, perché va sul rosso, ma il rosso non c'è. Dobbiamo fare più divisioni, allora. Mi servono più chest, mi servono più chest perché sennò non funziona, ok. In realtà non è problematico perché le chest ce le abbiamo oggi, già, eccole qui. Quindi sinceramente non mi sembra un grosso problema. Mi sembra più problematico cercare di smistare tutto nel modo corretto. Allora, mi sa che è stato ricacciato, vediamolo, qui, sì, eccolo qua. Allora, lo sistemiamo, in teoria mi metto lo zafferino, ne ho messi due addirittura a suo giro, e adesso dovrebbero scendere e venire richiamati dal sort che abbiamo messo su una chest di qua a sinistra. Quello torna indietro, questo va su perché si sono splittati. Io qua sul rosso, ah giusto, glielo posso mettere qua sul rosso, aspetta un po', abbiamo un colore nuovo, quindi aspetta che me lo prendo. Gli metto qui sul rosso che deve andare qua, questo lo rimetto qui, stessa cosa, qua gli metterò questo ruby e gli metterò questo ruby, ok. Allora, allora, mettiamo tutte e due le cose, quindi uno e due. In teoria adesso questi scendono, se ne vanno di qua, vanno sul rosso, vanno nella chest e funzionano. Perfetto, dobbiamo semplicemente ampliare tutto e le cose che qui non basteranno dovremmo fare delle linee alternative per fare un sorting migliore. Però, ragazzi, mi sembra quasi sostenibile, quasi fattibile, quasi, ripeto, quasi funzionante. Se vi state chiedendo perché nella chest lì non stanno arrivando materiali da smistare, è facile, è finito il call, al query. Allora, a questo punto chiudo un secondo tutte le cosine di casa, perfetto così. Poi dovremmo smistare queste ceste, se no l'esmistamento non ha assolutamente senso. Ok, allora, facciamo così, ci prendiamo quattro stack di call. Siamo messi un po' male, MC, sorry, signori, signori, come siamo messi qui? Si vede che ci ho giocato un po' senza fare niente con le MC, vero? Forse sì, forse sì. No, raga, voi non avete idea. Mi sto scervellando da giorni. Voi vedete tutto insieme, un giorno dietro l'altro, ma tra una registrazione e l'altra passa del tempo. Passano po' delle giornate. e quindi mi metto lì e dico ma come cosa ho fatto, cosa ho sbagliato perché non sta funzionando come dovrebbe forse devo fare due sistemi completamente a parte forse è meglio così lasciate stare ok 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 intanto molto carino come sta avvenendo il tutto e secondo me qua abbiamo lasciato il claim star da proprio pazzi maniaci e io inizierei prima di tutto a fare delle cose simpatiche perché questa produzione dobbiamo sistemarla ma adesso vi faccio vedere intanto ci prendiamo un pezzo di coal in più e facciamo la ninna veniamo nel mondo del quarry con il nostro amico il detto il teleport perfetto, fantastico qui io farei così, così dovremmo essere pari questo riparte abbiamo tutte le nostre cosine sperando di non trovarci un sacco di roba distrutta a casa ma ci siamo andiamo a vedere anche la nostra cobblestone farm salve, buonasera come va, come va, come procedono qui le cose oh ma questo è ciò che mi piace anche perché io ho in mente proprio di fare una cosa divertente quindi mi ritiro tutto e direi che funziona raga soprattutto se stai un po' afk come ho fatto io ci bruciamo tutto nella tavoletta importantissimo perché qui abbiamo bisogno di dark matter e la facciamo subito vado a prendermi altra vado a prendermi altro coal grazie, 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 grazie grazie, 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 graziella e torniamo a casa ah, qui le cose stanno stranamente funzionando ma quel tin mi sa che non è il tin giusto, vero? o dimmi di sì, ti prego dimmi che sta funzionando e io sono un malpensante che sento quelle cose eh, infatti no, non sono malpensante non sono malpensante perché qui ci va quest'altro tipo di tin ah, no, ma proprio questo tin dell'industrial craft non ce l'ho messo ma sono pazzo va bene e qui non c'è il tin perfetto e più avanti c'è il tin che dovrebbe andare qui qui il tin c'è dell'industrial craft va bene quindi ce lo mettiamo dentro e dovremmo aver risolto dai ragazzi piano 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 dovremmo dovremmo aver automatizzato qualcosa nel mentre però importantissimo creare altra dark matter ok abbiamo due pezzi di dark matter che non sono pochi che non sono pochi e ne possiamo fare un terzo che sono esattamente il numero che volevo io adesso adesso voglio ricreare un mk1 energy collector che tanto noi dovremmo essere tranquillamente tranquillamente forse no ma dovremmo essere in grado di fare intanto mi carico il claim star che non so dove l'ho lasciato forse nella cesto sì salve mi carico il claim star vado un attimo giù e mi vado a prendere un po' di roba tipo qua abbiamo un diamond non ci basta mai nella vita fammi vedere di qua che cosa abbiamo un po' di redstone che possiamo rompere volendo allora facciamo che mi prendo è un po' di electro line ok cosa stai cuocendo tu che mi viene il dramma della vita sembra funzionare raga io io piango quando vedo queste cose io piango sembra funzionare sembra funzionare è vivo è vivo ok scusate bruciamo questi ci andiamo a prendere di nuovo il mio eccoci qua il mio claim star che non ha tantissimo mc ma ne ha un po' prendiamo della glowstone ne prendiamo 1,2,3,4,5,6 me ne servono 18 10 17 18 benissimo come li faccio tutti quei diamanti però è rompendo altro perché mi servono mi servono 3 blocchi di diamond vero? sì mi servono 3 blocchi di diamond allora qua abbiamo dell'eternalist fuel quindi che valgono quanto un diamante un diamantino ce l'abbiamo che è qua abbiamo un po' di queste cose qua da bruciare che non è tanto ma sicuramente qualcosa ci facciamo ancora così abbiamo 3,5 diamanti questi li facciamo diventare diamond 5 diamond posso bruciare la render chest giustamente non si brucia posso bruciare raga un po' di alluminio che forse non ci serve scusate facciamo che queste cose le metto qua dentro al momento questo non so se ci serve questo lo metto a posto questo ok questo ok questo ok questa pure questo me la porto questo è quasi vuoto forse è meglio buttarci dentro delle stupidaggini tipo uno stack di redstone faccio quello che va rapidamente in miniera faccio quello che va rapidamente in miniera dai arrivo prendo qualche diamantino mi prendo quest'oro meraviglioso ok se tanto mi da tanto dovremmo essere a posto ragazzi brucio questa cobblest intanto non ci serve poi faccio così in teoria il silver qui dovrebbe andare iron tin alluminio l'oro forse non l'ho mai messo vero? anche questo non l'ho mai messo ok quindi questo va qui questo va qui in teoria adesso li ho aggiunti dovrebbero andare vediamo un po' allora dovremmo avere tutto il necessario non so perché qua c'è dell'iron ore l'iron ore qui è sistemato forse so perché forse so perché come ho messo fuori no ok forse so perché perché non l'abbiamo messi qui perché questi scendono vanno così e vanno di qua proviamo a fare mi servono tutti i blocchi però così vabbè adesso poi li sistemo dai li mettiamo dopo non è questo il momento andiamo a fare il craft che volevamo quindi ci sono dei fornaci ho bruciato tutto la cobblestone tutta l'ho bruciata incredibile prendiamo un po' di cobblestone ci facciamo tre fornaci facciamo ah abbiamo facciamo solo due blocchi di diamante così non tre mannaggia ne dobbiamo fare tre mmm sto sistemando anche i golden ingot perché ragazzi purtroppo non l'avevamo fatto qua anche dobbiamo separare qualcosa infatti metteremo probabilmente i golden ingot qua dentro e gli smeraldi nell'altra chest per fare una roba un po' più ordinata resta che questo oro lo facciamo diventare rapidamente un diamantone un po' più di un diamantone dirla tutta in maniera tale che possiamo rapidamente giocare insieme allora blocco di diamanti che è esattamente questo è ciò che ci serve per di più quindi facciamo tre energy collector mk1 e li facciamo diventare tre energy collector mk2 con questo al centro questa sopra c'è da glowstone e della glowstone tutta intorno quella dovremmo riuscire ancora a comprarla ok glowstone qui non so se ci basta uno due e tre perfetto ci basta quasi perfettamente andiamo su e facciamo un piccolo upgrade alla nostra farm ovvero andiamo a inserire eccoci qua questo potevamo anche lasciarlo lì questo lo rompiamo questo lo rompiamo benissimo e andiamo a mettere tutto intorno al nostro al nostro relay degli energy collector potentissimi che vanno a creare appunto tutto quello che per noi è utile ovvero mc andiamo a piazzare su tutto della glowstone molto bene e in teoria adesso facciamo quattro volte le mc che facevamo prima uno due tre e quattro esattamente quattro volte le mc che facevamo prima possiamo mettere anche uno sopra però non ho abbastanza mc non c'è perché quello dietro in effetti perché abbiamo uno due tre quattro anche quello dietro dovrebbe darcene abbastanza però insomma guardate come va veloce chiudo il tetto bene abbiamo un pezzo di glowstone adesso nel tetto non fa nulla ok qua sicuramente ho ancora qualcosa da inserire perché devo storare i minerali che girano perché se no non ce la posso fare però comunque molto bene con questo io vi ringrazio per aver visto questo video vi ho fatto un bel update noi ci vediamo domani ore 18 mi raccomando mi raccomando lasciate un bel like un commentino tutti i vostri commenti qua sotto tanto li leggo sono molto sempre molto ben contento poi di seguirli noi ci vediamo nel video di domani enjoy e che la renna sia con voi e che la renna sia con voi e che la renna sia con voi